Allo riparo! Forza! Turner guiderà il grosso delle truppe nella piazza! Noi dovremmo dare fuoco di copertura da quella chiesa! Domande? Bene! Io ne ho una! Risparmiatela e avrai una stella d'oro! Andiamo! Sono il suo preferito! Parca costana! Mi serve copertura a sinistra! Tutti gli altri a destra! Prendiamo quella casa! Aiello! Dov'è il fumogeno di segnalazione? Daniels, tieni giù la testa! Attività nemica più avanti! Apro il fuoco! Granata! Ripiegano! A quei gruppi! Abbiamo un po' di altri a di tutti! Verrà un po' di altri a Un po' di altri a